Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui, tornati in Dark Souls Remastered. Questo diciamo che è un episodio 1.5, perché non andremo avanti con la storia, ma andremo a prendere una spada speciale. Cioè, in realtà due. Sì, appunto, in realtà due, però non potremo usarle subito perché non siamo abbastanza forti. Ok, probabilmente moriremo 72 volte, però adesso, finalmente, che siamo su Xbox One, non lagga più. Ok, quindi vado a prendere... aspetta, prima la Zwei Under. Che è la più easy. Sì, in pratica lì. Ok, questi qua sono una rottura assurda. Sì, non riesco a farli per io. Soprattutto perché siamo debolissimi. Volevo vedere come è morto lui. Oh, no, morirei. Sì, veramente? Ok, taglia. Sì, veramente? Ok, taglia. Sì, veramente? Ok, taglia. Grazie a tutti Ok qua c'è il binocchio Oddio No È pieno di gente Oddio Tu non farei tutto perché Le schifo di tutti No andare direttamente Potevo usare il miracolo Ok ok Secondo me se entro qua in teoria non dovrebbero rincorrere Spero Oddio Sono un genio No ma che cavolo No Bevi 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 Urli molto maschile Ok adesso dobbiamo andare in quella stanza lì Ok adesso qua c'è lo stregone Il piromante Il piromone No Non mi sposte Oddio Oh ma che fastidio Muori E lasciami bere in pace Ancora Però piano piano stai riprendendo la vita Dai Ce la farai Che fastidio Muori No No Ok allora Però prenderò danno per forza Perché c'è lì il piromante O almeno che non faccio tipo la provata del secolo No ce l'ho proprio attaccato Salve No devo fare questo In teoria durante l'animazione Non mi fa danno Spero Ma ti ha preso proprio alla fine dell'animazione No Questi sono i due Sono pure danneggiati Vai vai No Come Si riformano Ti prego non prendiamo Non prendiamo le animazioni Eh però Adesso ce le hai davanti Cioè non devi scendere Eccole Vai 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 Go No è vero Ah ok l'ho già attivata la leva Quindi sono a posto Io sì mi ricordo Sì ma levati Ok Eh va bene No Non ci crede Non ci crede Non ci crede Oddio lì Vai Yeah Meno male Io ti odio Ok È morto Ok Purtroppo no Come sei 169 animi Dai non è possibile Vai vai che ce la fai Ma dovrei recuperare vita per fa Cosa Dai che ce la fai I texture che Compaiono Devo muovermi Devo muovermi Adesso devi No devo anche tipo Prendere Andare dietro il demone Della titanita E prendere gli occhi Perché Perché Sennò poi non va Io riprenderei la stamina Anch'io Ok Salve amico Adesso questo è il pezzo Più difficile E inquietante Di tutti Muoviti Non stare lì A raccoglierlo Con tutta la calma Di sto mondo Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Non so Ecco Arriva il corriere Questa è una scena Troppo creepy A parte che lui È già creepy di suo Cioè Poi guarda Sta scena Qua ha le texture Vabbè Le texture Qua è questo Cioè Quello scheletro lì Da dove è uscito Non si sa Beh 13 minuti Per prendere due armi Però 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 Che tra l'altro Non potremmo neanche usare Perché No io Allora Io con questo Cioè con questo Per il Master 09 Vorrei Come dire Una bella run Cioè nel senso Vorrei Portare la termine Con la spada Del re tombale Ok salve Salve signore Siamo qui Per fare una bella Consegna Stringi patto E abbiamo anche Il trofeo Ok Quello che uso È molto inquietante Vai Ce l'abbiamo Perché hai stabilito Aspetta In teoria Offri occhi della morte Tanto non ti servono È un gioco È una roba Per l'online Offriamo occhi della morte Prima o poi Dopo che ne offriamo Un po' Ci dà anche L'incantesimo Migliorato Che bello Mi ha capito Sono morto Allunghiamo il video Oh mio Dio Invece No Curati Oddio Vediamo quello Oddio Vediamo quello lì Si mi è tutto a terra È morto Come Madonna Dio questa parte No 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 Questa parte Era più Inquietante No io odio Questo posto Io lo odio Ti prego Lasciamo stare Abbiamo perso 669 anni Vabbè dai Per 3 di umanità Che ragazzi Finalmente siamo riusciti A prendere Sia la Zwei Ander Che La spada Del re Tombale Ovviamente Lui vedete Attributi necessari Non ne abbiamo nessuno A parte La destrezza Per la Zwei Ander Però Adesso Che siamo diventati Così potenti Più o meno Riusciremo Ad affrontare Sconfiggere Questo tizio qui No Ok E' il primo Perry Ce l'abbiamo Quanto è che li tolgo Col Perry? 98 Fortissimi Ma in teoria Noi non abbiamo preso Un sacco di anime Che possiamo utilizzare No Sì In giro Avevamo preso Un sacco di anime Lui sta andando No Di solito 15 Grande Ci si prova Dai Dai Piano piano Agli stentogliendo Metà vita Cioè dovrei tipo anche Mettere l'arma a due mani Dopo Però mi dimentico Ho paura tipo Che dimissere il Perry Posso fare Di Perry Con le armi No No Nel senso che L'arma a due mani Se fai il Perry E poi metti l'arma a due mani Toglie più Toglie più danno Ok Ma per sicurezza Faccio così Dai E' quasi andato E' quasi andato Questo qui mi ha Terno No No E continua Se sono morto No No Ma cos'è Mi hanno perso Quel nulla che avevamo Invece è stupido No ma anche io sono No Non possiamo tirarci No perché 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 Cosa vuol dire Io voglio fare il calcio Ci sta guardando Dove va Lui va Oh Ok Capriamo zero anime E zero umanità Vai Sì sono qui Vai campione Vai vai No 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 Ci vediamo all'altro mondo Ancora Oh Vattene Sì Oh più mille anime Vai Stonk Ah sì Ne avevamo presa anche una gigante No No due grandi Due grandi Questo qua d'era 200 E poi due da 45 Poi con due Dovremmo arrivare a 800 A 2000 Dai Con 2000 anime Io mi manderei subito Sulla destrezza al 13 No secondo me dovranno aumentare Prima la forza Così almeno ti possiamo Già vantaggiati Perché la destrezza Ci serve la dopo Ok Ok ragazzi Questo episodio 1.5 È finito Anche se non è Principale Insomma Ci è servito lo stesso Perché ci siamo mandati Da forza al 14 14 14 14 E ci mancano Solo 10 Livelli Per utilizzare La La Zweiander La Zweiander Che costa Non vedo l'ora Perché è P Troppo forte Comunque Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like qua sotto Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Sì Assista Ciao 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 Grazie a tutti.